salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video tutorial oggi spiegheremo come aumentare la velocità di download di steam prima cosa da fare scaricare chat engine dal sito ufficiale ok andiamo su google vi faccio vedere tutti i passaggi google.it scriviamo chat engine ok apriamo scariciamo download chat engine non lo faccio perché già ci sono scaricato sarà un video molto breve questo ok andiamo su steam mette a scaricare qualcosa giusto per farvi vedere che funziona davvero ok gioco free to play ok il tempo che si apre scusate ok scarichiamo tap tap infinity giusto per far vedere che funzioni ok avvia ok avanti avanti ok andiamo all'embreria eccolo qui guardate la velocità che va ora e guardiamo la velocità che va con chat engine ok apriamo chat engine ok selezioniamo steam ok 0,5 e 0,3 ok applica guardate ora a quanto sale la velocità dei kb salirà il picco massimo prima era arrivato a 849 kb al secondo può arrivare infatti fino a 800 900 kb al secondo guardate adesso come sale ok già salita 388 kb al secondo e questo è un trucco molto facile da fare come avete visto infatti 479 e via così cosa dirvi ragazzi se il video vi è piaciuto mettete mi piace iscrivetevi e commentate bella raga